Ciao a tutti, spero stiate bene. Pronti a scoprire i 7 nuovi gadget high-tech che vi faranno innamorare? Allora cominciamo, ma prima non dimenticate di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di attivare le notifiche cliccando sulla campana. In questo modo non vi perderete nessuno dei prossimi video. Vi presentiamo lo sterilizzatore automatico di spazzolini da denti che protegge la vostra bocca da milioni di germi. Sapevate che il vostro spazzolino è coperto di batteri cattivi e potenzialmente pericolosi? Sì, il vostro spazzolino è come una calamita per i milioni di germi che galleggiano nel vostro bagno. E ve lo mettete in bocca più volte al giorno. Brill funge da custodia e porta spazzolino, ma è dotato di una lampada UV sicura e potente che sterilizza automaticamente dopo ogni utilizzo. Basta premere un pulsante per aprire la finestra di Brill e posizionare lo spazzolino all'interno. Il disinfettante UV di Brill inizia immediatamente a distruggere i germi al momento dell'esposizione, pulendo lo spazzolino entro tre minuti. Brill è dotato di un magnete adesivo che si attacca facilmente al vostro specchio o alla parete, rendendo la conservazione semplice ed elegante. Il purificatore d'aria portatile Air Ring è un accessorio futuristico per le persone che vogliono respirare più sano ogni giorno. L'Air Ring dall'aspetto futuristico sembra uscito da un film sui cyborg. Si indossa intorno al collo e circonda il viso con aria purificata e rinfrescante, capace di proteggere chi lo indossa da virus come il Covid-19. Il rivoluzionario purificatore d'aria Air Ring offre protezione e comfort per tutto il giorno. La sua forma aggraziata si adatta al viso in modo naturale. La tecnologia avanzata dell'Air Ring genera aria pulita e rinfrescante per una respirazione sicura. Air Ring è dotato di filtri HEPA N95 LED UVC con TO2 fotocatalitico e filtraggio al carbonio. Il dispositivo funziona fino a otto ore con una singola carica della batteria. Inoltre un powerbank USB esterno può estendere le sue prestazioni senza limiti. Quest'articolo elegante e alla moda è progettato per essere messo e tolto facilmente. Si indossa intorno al collo con i suoi filtri d'aria sulla schiena e la batteria sul petto di chi lo indossa. Con il suo approccio elegante e le sue capacità di purificazione estrema, l'Air Ring mira a creare un futuro in cui la respirazione è sicura, senza restrizioni e piacevole. Gli auricolari Time Cattle M2 Translator offrono una traduzione vocale online e offline. Ma non è tutto, offrono anche un suono spettacolare per ascoltare la musica e fare chiamate. Alimentato dalla tecnologia AI, il traduttore Time Cattle M2 offre un'esperienza di traduzione senza precedenti. L'M2 è un dispositivo veramente accessibile per abbattere le barriere linguistiche, sia che tu stia viaggiando, allenandoti, facendo affari o semplicemente vivendo la tua giornata. Con la modalità remota, fino a 40 persone possono partecipare alla discussione di gruppo allo stesso tempo e supporta attualmente la traduzione in 40 lingue. Quando si seleziona la lingua predefinita, tutte le altre lingue saranno automaticamente tradotte nella lingua selezionata dal gruppo. Il traduttore vocale portatile M2 supporta la traduzione bidirezionale in 40 lingue e 93 accenti utilizzando il Wi-Fi o una rete cellulare. Time Cattle M2 collabora con le principali aziende di intelligenza artificiale e si connette a 14 server ad alta velocità in tutto il mondo. Use Me Everywhere ha sviluppato una scatola per il pranzo che ti permette di riscaldare i pasti ovunque. Grazie ai cuscinetti che generano calore attivati dall'acqua, il tuo pasto è pronto in soli 5 minuti. Questo è possibile grazie alla combinazione unica di minerali che rilasciano il calore necessario per riscaldare il cibo. Inoltre, il Lunchbox combina un design originale con l'efficienza termica necessaria per ottenere un riscaldamento rapido e uniforme. Il pratico Use Me permette all'utente di non dipendere da elettricità e gas per riscaldare il suo cibo. Il vostro cibo sarà cotto a vapore e quindi rimane fresco e delizioso. Perfetto per una dieta sana quando si mangia fuori. Una soluzione pratica, sana ed economica perché non dovrete più spendere soldi per pasti di scarsa qualità in viaggio. UFO è il primo dispositivo intelligente al mondo per il trattamento del viso. È l'ultimo accessorio di bellezza. Adatto a tutti i tipi di pelle, tonalità ed età, l'UFO vi aiuterà a migliorare la vostra luminosità del viso. Questo dispositivo svedese combina formule potenti ispirate alle routine di bellezza coreane. Presenta diverse tecnologie come la termoterapia, la crioterapia e gli impulsi T-Sonic. Ma anche luci LED per creare una maschera profonda sulla pelle. I trattamenti UFO sono profondamente idratanti e offrono un effetto immediato. Aumentano i livelli di idratazione del 100% e mantengono il loro effetto per 6 ore. Gli impulsi T-Sonic aumentano la microcircolazione e forniscono nutrienti e ossigeno alle cellule. La vostra pelle è ringiovanita, liscia e fresca. I trattamenti UFO rilassano i muscoli del viso e riducono la comparsa di linee sottili e rughe. Qualunque siano i vostri bisogni, ci sono diverse maschere per aiutarvi a migliorare l'aspetto della vostra pelle. Un'ampia selezione di formule naturali coreane vi aiuterà a godere di un trattamento viso professionale in meno di due minuti. Tutte le formule sono dermatologicamente testate e non contengono parabeni, alcol, solfati, formaldeide o EDTA disodico. Tile ti aiuta a trovare le tue chiavi e altri oggetti, non importa quanto tu sia lontano. I localizzatori e l'app gratuita di Tile funzionano sia con dispositivi Android che Apple. Con Tile avrai sempre un piano di riserva quando stai per uscire e le tue chiavi non si trovano da nessuna parte. Basta premere Trova nell'app Tile e il badge collegato alle tue cose inizierà a suonare. Mentre guardi i cerchi verdi dell'indicatore di prossimità caricarsi, ti avvicini al tuo oggetto. Usando semplicemente la tua voce puoi trovare le tue cose in giro per casa. Basta chiedere ad Amazon Alexa o Google Assistant di trovare il tuo telecomando, le chiavi o qualsiasi altra cosa che è attaccato al badge Tile. È così facile da impostare che anche le ricerche a mani libere sono più veloci. Avete perso il vostro telefono? Usate qualsiasi badge Tile come quelli sulle vostre chiavi o nella vostra borsa per far suonare il vostro telefono. Basta fare doppio clic sul pulsante del logo Tile. Funziona anche se il telefono è in modalità silenziosa. Se perdi qualcosa quando sei lontano da casa, Tile può aiutarti a ritrovarla. Permette di localizzare la sua posizione più recente su una mappa. Vedrai l'ultima volta che l'hai avuto o l'ultima volta che l'app Tile è stata in grado di localizzarlo. Lo Starscope Monocular può trasformare il tuo semplice smartphone in un telescopio spaziale Hubble in miniatura. Compatto, si può portare ovunque per ottenere immagini spettacolari. Questo modello serve come obiettivo di una macchina fotografica di alta qualità e ciò che è ancora meglio è che potete usarlo con il vostro smartphone. Basta scattare una foto ed è sul vostro telefono, pronta per essere condivisa con tutti. La maggior parte degli smartphone moderni ha una grande fotocamera, ma non hanno la normale capacità della telecamera di mantenere la qualità dell'immagine o del video mentre si zooma su un oggetto. Il monocolo Starscope elimina questo problema. Ora potete filmare o fotografare oggetti lontani come se foste vicini. Con questa macchina fotografica niente può mettersi tra voi e l'immagine che volete. E prima che tu chieda dei treppiedi, il monocolo Starscope ci ha già pensato. La presa sul fondo permette di collegare questo dispositivo per una qualità di immagine più stabile e perfetta. Anche se è vero che il monocolo Starscope funziona meglio se accoppiato con la fotocamera del telefono, è anche un ottimo modo per ottenere una migliore visione del mondo. È anche resistente alle intemperie e può sopportare alcuni piccoli graffi superficiali senza perdere qualità, ideale per le persone con uno stile di vita attivo. Potete portarlo in un safari per vedere meglio gli animali in lontananza, così come alle partite sportive, o semplicemente lasciare che i bambini ci giochino. Questo è tutto per questo video sui nuovi gadget high-tech. Avete trovato quello che vi piace di più? Diteci nei commenti qual è. E non dimenticate di mettere mi piace al nostro video, di iscrivervi alla nostra pagina e di attivare la campana di notifica per non perdere i nostri prossimi video. Con questo vi saluto e ci vediamo presto per un nuovo episodio.